Siamo in guerra. La situazione economica sta scoppiando con aumenti indiscriminati sull'energia, il grano, il mais, le famiglie e le imprese avranno grossi problemi per poter andare avanti. L'inflazione è molto alta e rischia di allentare quella ripresa che sembrava alla portata di tutti. Condizioni difficili che avranno ulteriori conseguenze e che non consentono di sapere cosa succederà. Eppure, una parte del governo pensa solo alle tasse e all'adeguamento del catasto che vuol dire aumenti ed oneri per chi dovrà eseguire delle compravendite. Incrementi degli oneri sulle case e sugli immobili, in sostanza il pericolo che vi siano degli ulteriori aggravi per i cittadini. Un appesantimento per tutti gli italiani e maggiormente per i calabresi. Vengono, infatti, aumentati i valori degli immobili, conseguenza della riforma del catasto, ma non vengono, per quanto riguarda la Calabria, offerti i dovuti e necessari servizi. Si può pensare che un'abitazione in Calabria possa avere lo stesso valore di un immobile in Lombardia? Certamente no, ma la riforma rischia di equiparare catastalmente gli immobili e quindi, uniformare i valori, non tenendo conto che in alcune regioni mancano i servizi minimi rispetto alle altre zone. Ed allora si può, oggi, in questo momento, con i gravissimi problemi che si stanno vivendo, pensare alla riforma del catasto? Non sembra che ci sia un'adeguata valutazione dei tempi e di quello che potrebbe accadere. Una evidente inopportunità che dovrebbe portare il governo ad accogliere le legittime richieste della Lega e del centrodestra e pensare alle altre urgenze che non possono essere rinviate.